Intervistato da TMV a pochi giorni da Lazio-Juve, Stefano Impallomeni analizza la sfida rilasciando a riguardo queste dichiarazioni, le sue parole. Per chi vale di più? Per la Juventus perché uscirebbe dal tunnel in cui è entrata con una vittoria. Per affrontare con più serenità poi l'obiettivo Champions, se perdesse sarebbe complicato uscire da questa situazione. Per la Lazio è la partita perfetta, visto il cambio in panchina. Vogliono rilanciarsi anche in chiave semifinale di Coppa Italia e derby vedo la Lazio avanti dal punto di vista psicologico. Ognuno ha i propri moduli ma credo che Tudor partirà subito a tre dietro. E credo che per gli esterni diventerà dura così. Zaccagni entra bene in mezzo al campo. A destra non so se lo potrà fare Felipe Anderson. Dietro è perfetta per giocare a tre ed è avvantaggiato dal fatto che per anni ha giocato a tre con Inzaghi. Ora dimmi, tifoso, cosa ne pensi di questa strategia della Lazio? Stiamo andando nella giusta direzione o abbiamo bisogno di aggiustamenti? Condividi nei commenti e scambiamo opinioni sul prossimo grande match contro la Juve. E non dimenticarti, non perdere neanche un momento, resta sintonizzato per la nostra copertura completa qui sul canale. Forza Lazio!